Buongiorno a tutti, io sono in Russia, in la Dacia. La Dacia è la casa del relax, qui si vede quando si vuole rilassarsi dalla confusione del città. Ecco, io vi mostro il giardino. Ecco, ha più di flore. De fatto, la primavera ha già arrivato, quindi molti flori devono ancora flore. Ecco, questo è il termino corretto. Ecco, il ha fragras. E ecco, il ha fragras del bosco. Ecco, molte altre planti di flori varie. Questo è, io credo, molto bello. E un arbore di pomos. Ecco un flore. Ecco, questo anche. E se voi potete vedere, per adesso, il nostro, in le serra. Io non è sicuro che questo è il termino corretto. Ecco, il ha cucumbres. E ecco, tomates o pomodoros. De fatto, io suppone che pomodoro è anche un parola buona pro interlingua. perché anche in russo, dove c'è pomodoro. E io credo, in plure lingua slava. Allora, pomodoro è anche abbastante internazionale. Il ha plure altre planti. Questo, io credo, è un planta di italiano. E lo è appellato ribes. Ribes rubie. Il ha anche le ribes nigre. Questo è un parve pallas di frutto. Il ha carottis e patattis. Ma ancora le deve nascere. Il ha anche le loro, è un planta di pomos. Il ha anche molti altri arbors di pomos e peros. Questo è il ribes nigre. Ma, perché non ha le frutto, o non potete veramente vedere la differenza. Io vorrei mostrare le belle flore. E... Questo è una planta di... Come si diceva? In italiano, questo è lampone. Lampone. In inglese... Raspberry. E in russo, malina. Ma questo non aiuta a trovare le parole in interlingua. Allora... Questo è... Un' planta di uva che superviveva le hiberno. Un potete vedere il ha. Lo sembra morita, ma il ha. Alicum... Folies verde. Allora... De fatto, mesmo... Il vicino è circa 60 gradi di latitudine nord. Le uva va... Facer fructos anche hic. Parve, forse... Ma il lo faccio fructo. Il ha... Plure casas hic in le... Le vicinità. Le... Eh... Le dacia pot... Può essere... Un... Un... Un casa molto molto... Parve. Come... Isto... Che vos potete vedere... Retra... A me. o anche... Il potete avere casas... Plus grande. Eh... Isto non significa che le persone... Ricche... ...es... Ricche. Eh... De fatto... Quasi totes... Construe... Eh... Le casa con... Su propria mano. O con le aiuto dei... Amicos. Allora... Isto non è... Terribilmente... Expensiva. E questo è tutto quello che volevo mostrare a voi. Ancora un panoramico su per le flore del albore che mi piace molto. Allora, a revider, forse io vi mostrerò quando avrò i frutti in futuro. Ciao ciao!